Si accende il Christmas Dream del vulcano Buono di Nola con la via della grande, rota panoramica all'inizio degli spettacoli, l'animazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio e del carosello al via, gli eventi del Natale. Nella grande struttura progettata da Renzo Piano, nel weekend appena trascorso, migliaia di persone hanno vissuto una nuova esperienza immersiva tra shopping e divertimento. Felicia Mercogliano, retail e marketing executive del vulcano Buono di Nola, ha annunciato le date del fitto programma. Tutti i weekend di novembre, quindi anche il 24, il 25 e il 26, tutto il mese di dicembre dal 1 al 31 dicembre, tranne il 25 dicembre che è il giorno di Natale e poi dal 2 al 6 gennaio avremo il villaggio della Befana con tutta una serie di attività esclusive. Tutto intorno artisti di strada e musicisti, trampolieri e acrobati hanno indossato costumi illuminescenti con una sorta di giardino animato di artisti travestiti da fiori sulle pareti della grande struttura, le immagini tridimensionali di videomapping mentre un torneo speciale ha percorso l'intera arena promettendo corsi entusiasmanti anche nelle altre giornate dell'evento. Il carillon vivente con una ballerina eterea che danza su una piattaforma in movimento, sul palco, canti, natalizi, balli e spettacoli a tema. E' un nuovo atto del processo di rilancio della struttura come evidenziato dall'amministratore delegato Francesco Furini. E' corretto che Vulcano ricomincia a sognare di nuovo in base alle sue capacità di essere veramente un punto di riferimento per l'intera collettività. Questa inaugurazione con un grandissimo successo quest'anno, con ingresso totalmente gratuito ricordiamo, è voluto proprio nella logica di destinare un progetto alle famiglie, ai bambini, è un family destination, un nuovo modello di concepire lo shopping dove lo shopping non è l'esclusività ma è soprattutto un modello di business nuovo. Ma nel Lago Rà spazio anche per le casette di Natale che offrono la possibilità di acquistare prelibatezza i prodotti di artigianato, tante idee regali che potranno poi essere scartate sotto l'albero.